Presentato ieri sera a Modica, presso l'Auditorium San Francesco, in Piazza delle Donne, un nuovissimo progetto sperimentale dedicato al teatro. È stata scelta la ricorrenza della Festa delle Donne per rappresentare un piccolo progetto animato, dato che T uguale invece al quadrato è principalmente formato da donne. La direzione artistica è stata affidata al maestro Giancallo Zanetti e la direzione didattica a Simona Celi, che ci spiega il significato del nome scelto, che fa riferimento alla teoria della relatività di Einstein applicata al teatro. Questo è un progetto al quale tengo moltissimo, ecco perché abbiamo scelto una formula matematica, la formula di Einstein che ha portato futuro, perché voglio che questi ragazzi attraverso il teatro, attraverso l'energia abbiano un futuro, che il loro percorso sia anche il loro futuro. Questo è un percorso sperimentale che da una scuola di teatro porta alla nascita di una compagnia che gli appartiene, è la loro compagnia. T come teatro, M come modica, C come cultura, ovviamente al quadrato, e C soprattutto come compagnia. Nasce teatro è uguale a modica, compagnia al quadrato, affinché questo sia un simbolo di energia per il futuro. La compagnia T uguale a MC al quadrato non ha voluto anticipare nulla sul programma ricco di rappresentazioni teatrali che andranno in scena nelle prossime settimane, ma invita i cittadini modicani a seguire la crescita di un progetto ambizioso e che utilizza la cultura del teatro per omaggiare la donna. È una compagnia questa a tutto tondo, cioè c'è chi si occupa dei costumi, della comunicazione, dell'ufficio stampa, cioè sarà una compagnia indipendente da me. Mi piace passare loro tutto quello che ho imparato in questo meraviglioso lavoro. Spero che questo posto diventi la loro casa, stiamo cercando di... vedete degli ombrelli e stiamo cercando di insonorizzarlo e soprattutto spero che questo diventi un posto per la città di Modica, a disposizione degli artisti di Modica. Grazie.